AHA Te vediamo cosa male? Okay Okay Iscriviti Mi importante essere in perciosa E quando vengono No, sì E come funziona L'escriviti L'escriviti come? l'usca l'usca, l'usca ho preso l'usca l'usca bravo qui c'è un frizz il va à l'usca non non il va c'è un frizz il va l'usca è un frizz l'usca l'usca Scusi. 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 Scusi.